Salve ragazzi, oggi parliamo dell'apparato respiratorio. L'apparato respiratorio serve a introdurre ossigeno all'interno del nostro corpo e ad espellere anidride carbonica. L'apparato respiratorio è formato da una serie di organi che sono il naso, la bocca, la faringe, la laringe, la trachea, i bronchi, i bronchioli, gli alveoli e i polmoni. Le vie respiratorie possono essere divise in via respiratorie superiori e via respiratorie inferiori. Le vie respiratorie superiori comprendono il naso e la faringe, mentre le vie respiratorie inferiori comprendono la laringe, la trachea, i bronchi e i polmoni. È preferibile respirare dal naso piuttosto che dalla bocca perché nel naso è presente una certa peluria che fa da filtro e quindi riesce ad intrappolare le particelle solite che magari noi potremmo introdurre respirando. Inoltre siccome l'aria fa un tragitto più lungo e poi le pareti interne del naso sono ricche di capillari sanguini, l'aria arriva alle vie respiratorie inferiori un po' più riscaldata e quindi questo ci evita magari di avere dei malanni, di avere delle laringidi, di avere delle tracheidi e così via. Quindi l'aria entra attraverso il naso, passa nella faringe, la faringe è un tubo che è in comune sia all'apparato respiratorio che all'apparato digerente. A un certo punto c'è una valvola che è chiamata epiclottite che divide l'apparato respiratorio dall'apparato digerente. Sotto alla faringe abbiamo la laringe, annessi alla laringe ci sono le corde vocali che sono gli organi delle fonazioni. Quando noi vogliamo emettere dei suoni, l'aria, introduciamo l'aria, l'aria vibra, fa vibrare le corde vocali e noi emettiamo dei suoni. Sotto alla laringe abbiamo la trachea che è questa qui. Vedete che la trachea è formata da una serie di anelli di cartilagine che hanno la funzione di mantenerla aperta. La trachea si divide in due bronchi i quali a loro volta si dividono in tubicini più piccoli che sono chiamati bronchioli che terminano con gli alveoli polmonari. Bronchi, bronchioli e alveoli si trovano all'interno dei polmoni. I polmoni sono due, abbiamo il polmone destro e il polmone sinistro. Vedete che il polmone sinistro è leggermente più piccolo del polmone destro perché deve fare spazio al cuore. In questa slide potete vedere i polmoni, c'è una sezione di polmoni aperti, vedete che all'interno ci sono tutti gli alveoli, ci sono i bronchioli che terminano con questi alveoli, quindi praticamente occupano i bronchioli tutta la superficie del polmone. La trachea e i bronchi, anche i bronchi sono formati da anelli di cartilagine, però sono tappezzati a loro volta da cellule ciliate. Vedete, le cellule di superficie della trachea e dei bronchi hanno queste ciglia che servono proprio per intrappolare le sostanze estranee che potrebbero essere introdotte con la respirazione. Questa foto invece a destra mette in evidenza la parete della trachea proprio, come è fatta una foto reale. Quindi dicevamo che i bronchioli terminano con gli alveoli, vedete gli alveoli sono queste strutture, sono delle strutture sferiche e sono circondate da capillari sanguigni, da vasi sanguigni ed è proprio qui che avvengono gli scambi respiratori. L'ossigeno viene preso dal, viene introdotto e portato quindi ad ogni singola cellula dal sistema circolatorio, mentre l'anidride carbonica viene espulsa e fa il percorso inverso all'aria e viene espulsa con la respirazione. Ecco, vedete questo alveolo è circondato, c'è un capillare, il capillare lo vedremo meglio quando faremo l'apparato circolatorio, che ha due estremità, una estremità arteriosa e una estremità venosa. L'estremità arteriosa è ricca di ossigeno, mentre l'estremità venosa è ricca di anidride carbonica. Quindi questa rossa è venosa, normalmente il rosso si indica il sangue venoso, vedete che è ricco di anidride carbonica, l'anidride carbonica per diffusione viene rilasciata all'alveolo, mentre l'alveolo che è ricco di ossigeno viene rilasciato all'ossigeno al capillare, però nella sezione, nella parte che poi diventa arteriosa. Sangue arterioso, sangue venoso, il sangue arterioso è il sangue ricco di ossigeno, mentre il sangue venoso è il sangue ricco di anidride carbonica. Per fare tutto ciò c'è bisogno della ventilazione polmonare, gli scambi respiratori. La ventilazione polmonare è data da due movimenti, due atti respiratori, che sono l'ispirazione e l'espirazione. Allora, con l'ispirazione l'aria ricca di ossigeno viene introdotta dal naso, attraversa tutti gli organi di cui abbiamo parlato e arriva ai polmoni. Con l'espirazione invece l'aria ricca di anidride carbonica, dopo che ci sono stati gli scambi respiratori a livello degli alveoli, fa il percorso inverso e viene riputata fuori. Questi due movimenti sono permessi da due diversi tipi di muscoli. Allora abbiamo il diaframma, che è un muscolo piatto che si trova sotto allo sterno e poi abbiamo i muscoli intercostali che si trovano tra una costola e l'altra. Quando ispiriamo i muscoli intercostali si contraggono, il diaframma si abbassa, la gassa toracica aumenta di volume e l'aria entra. Quando invece noi espiriamo, buttiamo fuori l'aria, i muscoli intercostali si rilassano, il diaframma si alza, la gassa toracica si restringe e l'aria può fuoriuscire. Le vie respiratorie possono ammalarsi, esistono diverse patologie delle vie respiratorie. Ci sono patologie che riguardano le vie aeree superiori, come il semplice raffreddore oppure un mal di gola, oppure la faringite, infiammazione della faringe, oppure ci sono patologie che riguardano le vie aeree inferiori, possiamo avere trageiti, bronchiti, polmoniti, perché no? Un'altra patologia che può essere causata da sostanze inquinanti oppure da fattori allergeni è l'asma dove si possono avere delle infiammazioni e delle difficoltà respiratorie. Però volevo soffermarmi sui danni del fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta contiene diversi componenti. Il responsabile dei tumori è il catrame che come vedete da questa foto si va a depositare sulla superficie dei polmoni stessi. Questa è la foto del polmone di un non fumatore, vedete com'è bella bianca, questo è un fumatore medio, vedete com'è scuro e questo è di un fumatore ostinato, dopo anni che fuma praticamente è un pezzo di catrame. Però oltre al catrame contiene tanti altri componenti che possono andare a rovinare in qualche modo le vie respiratorie. Abbiamo visto prima che le vie respiratorie sono formate da ciglia che hanno la funzione di intrappolare le sostanze estranee. Allora escono polvere e via dicendo, entrano all'interno e quindi si viene a formare il muco. Le cellule sempre che tappezzano tutto l'apparato respiratorio sono in grado di formare questo muco come protezione, quindi formano questo muco, questo muco si accumula e quindi il fumatore ha sempre la tosse, ha sempre la bronchite proprio perché le ciglia non sono più a protezione. Si forma questo muco che porta appunto a ispettorato e via dicendo. La nicotina, la niconina è un altro componente che dà dipendenza, infatti il fumatore che decide di smettere va in crisi di astinenza. Vi consiglio di vedere l'altro video che publierò a breve dove appunto un'equipe di medici dell'Istituto Beronesi, proprio dove si occupano di tumore, vi parlerà proprio, vi farà vedere i danni del fumo.